Il momento di ospitare qui, su questo splendido pianoforte ancora, un altro pianista. Lui si chiama Ragusi Cristian. Cosa farai qui? Beh, porto un pezzo di Lucio Dalla, Caruso. Tu come mai hai scelto proprio questo brano? Beh, perché ho studiato molti altri pezzi di Lucio Dalla e questo mi è piaciuto tanto. Ricordiamo come ti chiami, quanti anni hai e da dove vieni? Cristian Ragusi, ho 12 anni e vengo da Mentano. Guido il mare lucica Ma tanto, tanto vieni assai Ma tanto, tanto bene assai È una catena ormai Che scioglie il sangue di te bene Grazie Bravissimo Cristian Complimenti Che non è mai facile esibirsi Pianoforte e voce insieme Sei stato molto bravo, vieni qua Vieni qua al centro con me Ti sei meritato questo applauso dello studio E il tuo sogno nel cassetto Dimelo all'orecchio Dimelo Ci vuoi pensare? No, no Lo sai? Dimelo Dimelo Diventare un cantante famoso e suonare piano e voce Per sempre Fate l'applauso ancora Bravissimo Vai pure in bocca al lupo Grazie Grazie Grazie